e ben a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video siamo sul clash of clans come vedete dall'ultimo video non è cambiato praticamente niente perché sempre miglioramento questo e questo dal 9 al livello 10 tempo sto scorrendo gli obiettivi voglio farvi vedere sto cercando di fare l'obiettivo umiliazione tv umiliazione di sviluppare 100 municipi nelle battaglie multigiocatore sono già 88 infatti gli ultimi tacchi che sto facendo li sto facendo esclusivamente li sto facendo esclusivamente per attaccare cercare di prendere municipi nel frattempo ringrazio moltissimo boltans che mi ha donato tre giganti livello 5 così potremo andare attaccare molto meglio potremo fare un attacco molto meglio rispetto al solito ora ragazzi spero tantissimo che finiranno spero non vedo l'ora che finiranno questo e questo molto tale da poter togliere tutti questi ostacoli e sperare di prendere una bella una bella cassa di gemme per farmi il terzo costruttore voglio farmi il terzo costruttore perché così visto ora così visto che c'è visto che avendo tre costruttori posso fare posso fare avendo più costruttori posso attaccare posso posso mettere miglioramento più cose contemporaneamente invece avendone solo due no quindi spero vivamente di riuscire ad arrivare a 500 gemme nel frattempo qua sotto vi sto facendo vedere come sfondo l'attacco del primo del clan avversario che sta attaccando boltans il mio amico che mi ha appena donato io prevedo un bel fail ragazzi speriamo bene non dico fail completo ma una stella io la farà secondo me però due no due no ragazzi è assicurato questo gli fa una stella due no il municipio non lo prende gli fa una stella mi sa sì perché morre barbara qua tutti questi punti morti una stella su e come anche le truppe del castello ancora quindi sì sì una stella io la fa benissimo una stella purtroppo sì 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 è una stella io la fai come è già 43 per cento ormai questo drago qua sta attaccando tutto un secondo come va a finire questo attacco del no dell'avversario poi altrimenti poi andremo no ragazzi dai che puoi failare faila faila non ci credo faila ha failato grande ansel che difesa mamma mia meglio così dai meglio così entri ragazzi ora andiamo a cercare qualcuno da attaccare come detto quattro stelle per l'obiettivo delle stelle per il coso delle stelle giornaliero quindi andremo a fare un'ultima stella quindi prenderemo un bellissimo municipio facciamo l'obiettivo delle cinque stelle e ci prendiamo il bonus delle cinque stelle abbiamo trovato chi attaccare perché a noi come ho detto prima interessa solo il municipio quindi possiamo benissimo provare questo qua eh no 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 qui sarà pieno di bombe sarà pieno di trappole lì ragazzi quindi no ma possiamo andare invece ad attaccare questo chi ha il municipio qui dai ragazzi così si fa prima cosa pentiamo la nostra fulmine poi tutti i nostri giganti poi quelli avversi quelli del nostro clan buttiamo tutti i barbarozzi no non tutti sì dai ci stanno andando i giganti lì dai che gliela facciamo una stella un municipio io lo dobbiamo prendere per forza eh sì è una stella sì così una stella io mi sa che gliene facciamo anche due almeno spero e gliene facciamo anche due sì ragazzi così si fa due stella due stella ci prendiamo anche quel 10 mila quel 20 mila lisir non fanno mai male sempre risorse sono peccato di sempre per delle difese non vincono attacchi ci prendiamo anche tutto il bottino così ragazzi così si fa così possiamo anche tornare a casa felici con 15 coppe il nostro municipio preso e il bonus delle stelle il bonus stella non riusciamo però a metterlo tutto nei depositi quanto ci rimane di oro ancora 46 mila va bene lo stesso ragazzi ora metteremo a fare l'esercito che mi sono dimenticato di mettere a fare nello scorso video 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 8 15 8 24 e niente ragazzi visto che secondo me se seguite federic 95 ita se no ve lo lascio qui sotto in descrizione vi scrivo il suo nome vedete che in questo anno distribuiranno i pokemon gratis i pokemon leggendari gratis quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete magari anche dei video su pokemon con la scuola dei leggendari quando riuscirò a prendere questi pokemon perchè ora ho già preso 3 mew li vado a scambiare per altri pokemon leggendarissimi e niente ragazzi quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete dei video anche su pokemon o su qualcos'altro cercherò di accontentarvi e niente ragazzi per questo video è tutto e noi ci vediamo nel prossimo video bella